Cornicione pericolante in via Fasci Siciliani. Chiediamo l'intervento dell'Istituto Autonomo Case Popolari che ha la competenza sull'edificio. È la segnalazione di un gruppo di abitanti nella stessa zona che chiede anche il sostegno dell'amministrazione comunale, dopo che sono state collocate diverse transenne per evitare che qualcuno, transitando nella stessa via, possa riportare danni. Gli autori della segnalazione evidenziano Crediamo che sia un nostro diritto che le parti pericolanti vengano rimosse e soprattutto che si proceda a un'immediata soluzione del problema. Urge un intervento al più presto. L'appello finale Invitiamo il Sindaco Ruvolo a fare una visita in questa parte della città per valutare l'opportunità di lavori di primaria necessità.